Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato oggi all'unanimità il bilancio d'esercizio 2022. La Fondazione chiude in attivo il bilancio con un utile netto di 97.617 euro e un valore totale della produzione che ammonta ad oltre 31 milioni. La Fondazione ha realizzato nel corso dell'anno 76 produzioni e 237 recite che hanno generato ricavi dalla vendita di biglietti e abbonamenti per un totale di 2.565.000 euro e una crescita del numero di spettatori che nel secondo semestre, con Nabucco, ha fatto registrare l'incasso più alto mai realizzato da una produzione dal 2018 a oggi. Il 2022 ha visto il grande ritorno del pubblico delle scuole di ogni ordine e grado e l'incremento di spettacoli per ragazzi in matinè. Anche il numero delle visite guidate ha raggiunto il record assoluto di 130.000 visitatori e un ricavo di più di un milione di euro. Così come è in aumento la voce affittosale che ha portato nelle casse quasi 300.000 euro da parte di istituzioni pubbliche e private. Il 2022 regista anche la riapertura e l'affidamento in gestione della BVET con il ripristino del servizio al pubblico dopo due anni di interruzione. Il comune di Palermo, dichiara il sindaco e presidente della Fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla, era chiamato a garantire la continuità amministrativa del Teatro Massimo e l'operazione messa in campo dall'amministrazione ha permesso di metterla in sicurezza, confermando lo stesso supporto finanziario anche per i prossimi anni. L'auspicio adesso è che questi risultati diventino un punto di partenza. Lo stato di salute della Fondazione, dice il sovrintendente Marco Betta, è il risultato di un monitoraggio attento dei costi e di un significativo incremento dei ricavi propri. Un risultato importante raggiunto insieme al Consiglio di Indirizzo, al Collegio dei Revisori e a tutti i lavoratori del teatro, che ringrazio vivamente per essere stati coesi e compatti nei momenti più critici. Ma ringrazio, conclude Betta, anche il pubblico, che non ci ha mai fatto mancare la sua partecipazione.